L'Ater di Teramo ha consegnato i lavori per la demolizione dell'edificio sito in via Spataro numero 5 e 6. Il fabbricato, realizzato alla fine degli anni 70, adibito a civile abitazione per l'edilizia sociale, è sviluppato su tre piani, oltre ad un sottotetto ed un seminterrato adibito a rimessa, per complessivi 12 appartamenti distribuiti su due scale, di cui 6 da circa 100 metri quadrati e 6 da circa 80. L'obiettivo dell'Ater, una volta demolita la palazzina classificata E, a seguito del sisma del 2016, è quello di avviare il primo possibile lavori per la realizzazione di una nuova struttura di ultima generazione in termini di sicurezza sismica, efficientamento energetico, funzionalità e vivibilità. Abbiamo fatto la scelta appunto di avviare le demolizioni pensando al bene dei nostri inquilini e dotare la città di un patrimonio nuovo, di un patrimonio di edilizia pubblica, di cui potranno beneficiare anche le future generazioni. Le tempistiche noi possiamo dire che intanto avviamo, appunto oggi avviamo i lavori. Avviare i lavori non significa che da questa mattina si procederà alla demolizione, significa che da oggi il cantiere si può dire consegnato e quindi nei prossimi giorni si avvierà proprio l'effettiva demolizione. Nel frattempo stiamo già portando avanti il discorso del progetto, il progetto appunto di costruzione. E quindi che dire, adesso sulla tempistica io non posso in questo momento pronunciarmi assolutamente perché è chiaro che ci sono tante variabili esterne che potrebbero magari andare a modificare parzialmente anche la nostra tempistica. Noi speriamo bene che dire, anche come decisione di consiglio di amministrazione, appunto di governance, è proprio quello di garantire al più presto il rientro nelle abitazioni. Quando si parte con un cantiere, considerando i rallentamenti burocratici, è sempre una cosa positiva. Non è il primo, ci sono stati tanti altri e questo bisogna darne atto alla bravura, alla professionalità del Presidente Ater, di tutti gli uffici, ma anche noi come Regione stiamo cercando di dare una forte accelerazione con l'aumento del personale affinché al più presto le persone possano rientrare nelle proprie case. Quindi sicuramente se hai visto un cambio di passo sono felice, bisogna continuare così, come dicevo, bisogna cercare di far rientrare le persone nelle case perché il legame affettivo che può dare una casa non può dare una collocazione provvisoria.